Vedevo un po' questo, forse non sapevo se fosse gioco, non sapevo se fosse voglia di chiarire realmente e in quel momento un po' presi anche dalla leggerezza del momento, perché no, Delia ha provato a baciarmi un paio di volte, ho continuato a dire di no, dopodiché ho detto va bene, vuoi lasciare andare tutta questa negatività, è questo quello che serve, allora vieni e baciamoci. Io nei suoi confronti non vorrei mai stare con Alex, non ho mai avuto interesse nell'avere una relazione con lui, è per questo che ci siamo frenati. Soleil, vuoi salutare Alex? No, grazie. Sei sicura? Assolutamente sì, perché a me sembra che Alex sia venuto qui dentro non tanto per recuperare il suo matrimonio, che come abbiamo visto non c'era bisogno di recuperare e potrà farlo fuori, ma per cercare di farmi esporre in qualche modo il fatto di essermi innamorata di lui, cosa che non è e vorrei mettere un punto su questo. Adesso non mi trovo più e quindi, visto che io sono considerata una persona di una certa età, è giusto che io vada a casa e ne ho bisogno proprio fisicamente, ho bisogno del mio spazio, del mio affetto, non mi trovo più. Grazie.